Notizia bomba dell'ultima ora a Milanello. Nessuno se lo aspettava questa mattina. Preparati a rimanere a bocca aperta con l'annuncio. Questa notizia esplosiva promette di scuotere la giornata di tutti i tifosi rossoneri. Ma prima di rivelare tutti i dettagli, voglio che lasciate un like e vi iscriviate al canale. Così, vi assicurerete di ricevere tutte le principali notizie e aggiornamenti sul Milan in anteprima. Non perdete nessuna novità. Proprio quando sembrava che Mazz Ammels stesse per andare al Bologna, un rapporto ha affermato che il Milan è tornato in corsa, perché il difensore non ha ancora preso una decisione. Secondo la Repubblica, via Fantamaster, è arrivata la conferma del direttore del Bologna, Giovanni Sartori, che sono interessati a ingaggiare Ammels, che sostituirebbe Riccardo Calafiori dopo il suo trasferimento all'Arsenal. Quando avremo una risposta da una delle prime tre scelte, procederemo, sia che si tratti di Ammels o di un altro, ha detto Sartori. Teme che la concorrenza rallenti ulteriormente le trattative, con alternative come Neu Mperez dell'Udinese che ora vengono valutate. Tuttavia, il Milan ha ripreso a pensare al difensore centrale esperto, che attualmente è un agente libero dopo aver lasciato il Borussia Dortmund. Nonostante l'arrivo imminente di Straingia Pavlovich, la dirigenza vorrebbe dare un ulteriore rinforzo a Paolo Fonseca. Ora la palla passa a Ammels, che dovrà dare una risposta a entrambi i club nei prossimi giorni, decidendo effettivamente quale sarà, o potrebbe benissimo essere, la sua ultima avventura in carriera. Per il Milan, potrebbe sostituire Simon Chiar come presenza veterana, o potenzialmente Malik Tio se venisse venduto. E voi, tifosi rossoneri, cosa ne pensate di questa situazione? Il Milan dovrebbe puntare su Matt Sammels come rinforzo per la difesa o sarebbe meglio esplorare altre opzioni? Lasciate le vostre opinioni nei commenti e discutiamo insieme di questa decisione importante. Forza Milan!